L'arte europea del Rinascimento, attraverso le opere di artisti straordinari come Leonardo da Vinci, Michelangelo Bonarroti e Raffaello Sanzio. Ma il Cinquecento è anche un secolo di laceranti tensioni. La riforma protestante di Martin Lutero, il Concilio di Trento con la nascita di nuovi ordini religiosi, come ad esempio i Gesuiti, l'inizio del Trimunale dell'Inquisizione, eventi anche cruenti che tuttavia segneranno per l'Europa il passaggio definitivo dal Medioevo all'età moderna. Nel 1600 il nucleo centrale dei futuri Stati Uniti d'America è del tutto sottomesso all'impero coloniale delle grandi potenze europee e ad esempio l'Olanda, in collaborazione con l'inglese Henry Hudson, comprerà tutto l'embo di terra su cui sorgerà la moderna Manhattan. A questo intricato equilibrio politico si aggiunge, già dal 1620, la presenza in America dei padri pellegrini. Sono intellettuali, professori e teologi di religione puritana, perseguitati nella Madre Pazia, che sbarcano in America alla ricerca della nuova città, ideale, classica e cristiana, e la tradizione puritana dà poco spazio all'arte figurativa. Troviamo in questo periodo solo molti ritratti e poche opere ad argomento biblico, naturalmente ispirata al modello europeo. Sulla scia della Repubblica di Platone, pittura e scultura sono considerate imitazioni ingannevoli della natura. Solo la musica, prevalentemente sacra, trova un suo spazio, perché, sempre secondo Platone, aiuta la comprensione dell'armonia cosmica. I primi anni del Settecento vedono l'arrivo in America di una folta schiera di pittori inglesi, tra i quali John Smilberg e John Singletor Kupley, che portano naturalmente con sé le novità artistiche europee. Sarà, come è noto, la firma dell'atto di indipendenza a Filadelfia nel 1776 a San Cira la nascita ufficiale della Federazione degli Stati Uniti d'America. E solo dopo le guerre, di indipendenza prima e di secessione dopo, nel 1861, vedremo nascere in America un concreto bisogno di arte pittorica, vista, ora, come lo strumento indispensabile per costruire il proprio mito storico e testimoniare i gloriosi episodi di guerra. Nei cento anni che intercorrono tra il XVIII e il XIX secolo, la ricerca pittorica americana sarà in continua evoluzione. Innumerevoli quadri storici documentano gli eroismi e le vittorie in battaglia. La scultura partirà un po' più tardi e il soggetto preferito agli inizi sarà George Washington. Altre opere racconteranno i viaggi nel Sud America, gli scontri con gli indiani, la mitica corsa all'oro, la conquista dei territori dell'Ovest, il Far West del Cowboy. Nei dipinti del XIX secolo ci colpisce un senso incredibile di scoperta e di meraviglia. Una meraviglia che ci fa restare senza fiato davanti a uno scenario naturale infinito e immisurabile. Luoghi incontaminati da secoli in attesa di essere abitati e descritti. Il precedente senso di inadeguatezza nei confronti dell'arte europea lascia ora spazio a un nuovo potente senso di dignità saldamente legato al territorio. Restiamo attoniti davanti alla potenza delle cascate del Niagara o all'incanto della Yosemite Valley, ritratta come un verde paradiso terrestre. Attraverso la pittura il tentativo di cogliere il senso più articolato e profondo di questa natura, che si confonde con la spiritualità e con un senso di trascendenza. Washington Olson dipinge paesaggi di grande suggestione. Egli applica il concetto di pittura romantica alla realtà americana, mescolando tradizione e modernità. Thomas Birch esprime nelle marine la sua massima potenza espressiva e in ambidue gli artisti troviamo un forte richiamo alla tradizione inglese e in particolare alla pittura passionale di William Turner. La scuola del fiume Hudson nasce intorno al 1825, è fondata da Thomas Cole e prosegue la sua attività fino al 1875. Si può considerare il primo vero movimento pittorico statunitese. È una scuola che non ha regole precise, ma evidenzia piuttosto un'affinità spirituale e una similarità di intenti tra i suoi partecipanti. Nel 1825 Thomas Cole espone a New York alcuni suoi quadri che ha dipinto in estate lungo il fiume Hudson e sulle montagne della Catskill. Fanno molta impressione e questi luoghi diventeranno ben presto il simbolo esclusivo del paesaggio americano. Nella teorizzazione di Cole ritroviamo la visione poetica di John Milton nel suo Paradiso perduto del 1667, ma soprattutto il pensiero filosofico che Ralph Emerson esprime nel suo saggio sulla natura del 1836. Cole ed Emerson sono giunti nello stesso momento ad esprimere la stessa idea con espressioni differenti, anche se sicuramente non si conoscevano. Emerson esortava gli americani a trovare piacere, significato e valore nell'ambiente che li circonda. Egli sosteneva che c'è una differenza fondamentale tra terra e paesaggio, in quanto la terra viene considerata per il suo potenziale minerario, legnoso ed agricolo che ci offre risorse di sostentamento, mentre il paesaggio è visto nella sua capacità di offrire piacere e quindi nella sua valenza spirituale. Il paesaggio incantevole che ho visto stamattina è senza dubbio composto da una ventina o trentina di fattorie, e ogni campo appartiene a qualcuno. Ma nessun uomo può possedere il paesaggio. C'è una proprietà nell'orizzonte che nessun uomo ha, se non colui il cui occhio può integrare tutte le parti, cioè il poeta. Anche Cole pubblica un saggio del 1836, nel quale sostiene che gli Stati Uniti sono pieni di una bellezza che gli americani devono ancora apprezzare appieno. Cole continuò a battersi negli anni per sostenere la necessità di preservare i parchi naturali dallo sfruttamento, e questo influenzò moltissimo l'opinione pubblica. Il processo che partì con lui durò più di trent'anni, e porterà, nel 1864, alla prima conservazione federale di un paesaggio specifico, cioè l'istituzione degli osemiti e del bosco di sequoia del Mariposa Grove, quello che oggi noi chiamiamo Parco Nazionale. Subito Cole richiama intorno a sé un gruppo di artisti, che sono affascinati come lui dal potenziale espressivo di quei luoghi, e tra questi Escher Brown-Darant, Frederick Edwin Church e Thomas Doughty. Dare dignità al paese, che in questo momento storico è visto come una sorta di terra promessa, il paesaggio assume da subito una caratteristica epica. L'uomo conquista il paesaggio che era in una condizione di attesa, lì rimasto nei secoli per essere descritto e percorso, una terra forte e incontaminata, bellissima e potente. Si fa strada per la prima volta nella mentalità americana la consapevolezza che la pittura ha raggiunto un altissimo livello, rispecchiando il carattere proprio del suo continente e smettendo di essere la brutta copia dell'arte europea. Questo nuovo impulso porterà all'apertura di molte accademie artistiche, rivolte alla formazione di questa nuova generazione di artisti. Cole ed Aran dipingono quadri che stupiscono il pubblico, per le notevoli dimensioni e allo stesso tempo per la ricchezza e accuratezza dei dettagli raffigurati. In questi artisti l'influsso artistico europeo è ancora dominante. Molti di loro si ispirano a maestri europei, come Claude Lorraine, Constable, William Turner e il tedesco Friedrich, e più in generale alla cultura figurativa britannica della fine del XVIII secolo. La grande attenzione per la luce è un tratto caratteristico di tutti i pittori della scuola del fiume Hudson, e si accentua particolarmente nelle artisti della cosiddetta seconda generazione, come Gifford, Head, Innis, Kenseth. Essi sono disposti a sacrificare i particolari realistici a favore dei colori e delle variazioni tonali. Sono paesaggi dove l'unità compositiva è affidata soprattutto alla luminosità atmosferica, attraverso la quale vengono sottolineati l'idealismo e la liricità del paesaggio. Troviamo spesso in questi quadri un acceso contrasto fra l'ombra e la luce, un uso quasi violento della luce in un contesto di intonazione scura, e questo modo di operare verrà chiamato luminismo. Sono effetti pittorici già in uso nel Tardo Rinascimento, ad esempio in alcune opere di Tintoretto e in molti lavori della scuola di Caravaggio. Questo termine si ritrova anche in scultura, ad esempio per descrivere i forti contrasti luminosi delle opere di Bernini. Proprio a causa dei suoi effetti di luce dell'atmosfera, Kenseth fu considerato un parente stretto degli impressionisti. Nel 1851 dipinse un'immensa tela che rappresentava il Monte Washington visto dalla valle di Conway. Quest'opera diventerà un'icona dell'arte della montagna bianca ed avrà un'enorme diffusione. Mentre i pittori americani del primo ottocento si erano dedicati alla costruzione del mito e dell'identità di una nazione nuova, nei vent'anni finali del secolo si ritorna a cercare un contatto con l'arte europea, in particolare con l'Italia, Parigi e con l'arte impressionista. Nasce così l'impressionismo americano. Il Giverny, in Francia, diventa un punto di approdo fondamentale per molti di questi artisti americani. Alcuni di loro, come Mary Cassatt, John Singer Sergent, James Abbott Whistler, vivevano e lavoravano già da tempo in Francia e godevano lì di un'ottima reputazione. Sarà Durand-Ruel, il geniale mercante di Monet, a suscitare un'ondata di forte interesse, sia tra i collezionisti che tra gli artisti. Ruel ha sempre sostenuto gli impressionisti, come Degas, Monet, Renoir, Cisli o Pizarro, anche quando i loro quadri venivano fortemente contestati. Così scriverà nel 1885, riferendosi a loro. Vengo ora al mio grande delitto, quello che sovrasta tutti gli altri. Da tempo acquisto e stimo massimamente le opere di pittori assai originali e culti, tra cui vi sono molti uomini di genio, e pretendo di imporle agli amatori. Pur essendo ormai in bancarotta, Durand-Ruel osò guardare oltreoceano. Aiutato dai tre figli, Joseph, Charles e George, organizzò nel 1886 la prima mostra impressionista a New York. Sbarcò a New York con 43 casse di quadri ed espose all'Associazione d'Arte Americana di New York, circa 300 opere di autori, quale Monet, Renoir, Manet, Cisley, Degas, Cézanne, Cassatt, Sorat. I dipinti verranno venduti tutti in poche settimane. L'anno successivo, Ruel sarà nuovamente invitato a New York per organizzare una seconda mostra dei suoi artisti. L'evento fu un tale successo che determinerà anche un rialzo dei prezzi in Europa. Sull'onda della grande richiesta, nel 1887, Ruel aprirà una galleria anche a New York, sulla 50 Avenue, che rimarrà attiva fino al 1950. John Sergent, Mary Cassatt e Winslow Homer sono già affermati in Europa, dove avevano completato la loro formazione artistica. Il loro contributo nello sviluppo dell'arte americana fu enorme. We live in hard and stirring times, to sad for mouthful, rough for rimes, for songs of peace have lost their times. And that's what's the matter, the men we held as brothers true, have turned into a rebel crew, so now we have to put them through. And that's what's the matter. That's what's the matter, the rebels have to scatter, we'll make them flee by land and sea. And that's what's the matter. The rebels thought we would divide, and then both France would take their side, they then would let the unions ride, and that's what's the matter. But when the war had once begun, the party's healing soon was gone, we'd join as brothers, every one, and that's what's the matter. That's what's the matter, the rebels have to scatter, we'll make them flee by land and sea. And that's what's the matter. La critica d'arte ha sempre fatto molta fatica a riconoscere il giusto merito agli artisti impressionisti operanti fuori dalla Francia. Questo è il caso dei macchiaioli in Italia e anche dei pittori americani. Mary Cassett ebbe da subito una critica favorevole, ma solo perché di fatto si era trasferita a Parigi e lavorava a stretto contatto con Degas. Il movimento impressionista statunitense fu in grado di produrre opere molto potenti, plasmando i temi della pittura francese con i grandi cambiamenti sociali, politici ed economici che stavano investendo l'America. Nelle loro opere un nuovo spirito di denuncia sociale e una forte reazione all'industrializzazione che di fatto relegava la classe media al confine con le periferie. Tra i lavori più significativi di James Abbott Whistler troviamo La Mergera del 1858 e Al Piano dell'anno successivo. Durante un suo soggiorno londinese dipinse spesso il Tamigi, particolarmente significativi Vedute del Tamigi notturno in blu e oro e Tamigi ghiacciato. Nel 1861 Whistler tornò a Parigi e qui probabilmente raggiunse la sua massima espressività realizzando La sinfonia in bianco numero uno e La ragazza bianca. Quest'ultimo quadro fu esposto due anni dopo al Salon des Refusés. Thomas Hickens ha dedicato la sua carriera allo studio della figura umana che ha rappresentato con un strumento olio, acquarello, scultura, fotografie. I corpi sono quasi sempre in movimento ritratti nudi o leggermente vestiti. Egli era capace di modellare le forme del corpo in piena luce e creare l'illusione della profondità utilizzando i suoi studi di prospettiva. Il risultato è estremamente realistico. Da giovane era stato un atleta e forse per questo amava le scene animate all'aria aperta spesso legate a temi sportivi come il canottaggio o le partite di baseball. Anche gli incontri di pugilato sono soggetti che ama. Oltre all'abilità pittorica fu sicuramente considerato un innovatore nell'applicazione di nuove tecnologie alla fotografia e movimento. William Mary Chase è un artista completo che lavorava su ogni genere di supporto e con ogni tecnica olio su legno, pastello, inchiostro, incisioni dipingeva con disivoltura figure umane paesaggi, nature morte, scene familiari e soprattutto ritratti per i quali diventò molto famoso. Era un individuo particolare che si faceva notare oltre che per il talento per lo sfarzo che ostentava nel vestire e per i suoi modi raffinati. Riempiva lo studio con mobili sontuosi oggetti decorativi uccelli impagliati tappeti orientali strumenti musicali ed esotici trasformandolo in un punto di ritrovo per la gente più facoltosa dell'arte e della moda di New York City. Conduce una vita molto dispendiosa che alla fine lo porterà in rovina. Appassionato dell'insegnamento Chase è stato insieme a Robert Henry suo rivale in pittura l'insegnante più importante della fine del XX secolo influenzando pesantemente lo stile di molti e il gusto di un'intera generazione. Come a Giverny anche in America ritroviamo luoghi scelti come punto di incontro e di scambio fra gli artisti. I due più famosi sono gestiti da donne. La prima fu Miss Florence Griswold. Faceva parte di una delle famiglie più antiche e ricche di online e per questo aveva trascorso una giovinezza privilegiata. Alla fine del 1890 le sorti cambiarono e rimasta sola fu costretta a trasformare la fattoria di famiglia in una pensione che affittava a giovani artisti. La voce si sparse e in trent'anni oltre 135 artisti americani alloggiarono nella sua pensione. Prima di partire essi erano invitati a dipingere un pannello sulle pareti o sulle porte di casa. Oggi se ne contano 43 che adornano la sala di tutta la casa. Tra i suoi ospiti più affezionati Henry War Ranger e William Metcalf. Amavano ambedue dipingere i riflessi dell'acqua, le spiagge soleggiate e i chiari scuri delle paludi. Di Metcalf si possono ammirare anche molte tele dedicate allo studio della neve con luci e soprattutto con ombre veramente innovative. La poetessa Celia Texter fu la seconda donna a mettere a disposizione di artisti e scrittori la sua dimora ad Appellore Island. Si dice che i suoi ospiti alla fine della giornata si ritrovassero in veranda divertendosi tra l'altro in giochi di caricature. Erano soliti far passare un foglio dove ognuno doveva disegnare un tratto caratteristico che doveva formare alla fine del giro della tavolata la caricatura di una persona. Anche lo scrittore Ralph Emerson fu tra i suoi ospiti. Child Gassam sostò spesso da lei e le fece moltissimi ritratti. Pittore e incisore ricordiamo le sue donne alla finestra o davanti agli usci di casa le sue verande di casa al tramonto tagliate dall'ombra delle grondaie. Sono spazi che conservano una carica empatica ancora oggi. Child Gassam è considerato uno dei più grandi e celebri impressionisti americani. Mary Cassatt insieme a Bermore Rizzo ed Eva Gonzalez è stata una delle pochissime pittrici donne impressioniste. cosa di non poco conto in un periodo storico in cui le donne ricoprivano un ruolo subalterno e la pittura era considerata una pratica esclusivamente maschile. Le Conde Beaux-Arts di Parigi negò il diritto di istruzione alle donne fino al 1897. Mary Cassatt e Bermore Rizzo furono donne di forte personalità con un indubbio talento artistico e un forte impegno politico e sociale. Ambe due ebbero una voce influente nell'ambito dei diritti civili e dell'emancipazione. Le brillanti intellettuali dell'impressionismo si possono così considerare le prime femministe del 1900. Dal movimento impressionista prende vita nel 1897 il gruppo dei dieci pittori Childe Assam Julian Alden Weir John Henry Twatchman Robert Lewis Raid Willard Metcalf Frank Houston Benson Edmund Charles Tarbell Edward Emerson Simmons Thomas Wilmer Dewing Joseph De Camp Essi diedero tutte le dimissioni dalla Società degli Artisti Americani per protestare contro la commercializzazione che dominava le loro mostre e l'ambiente da circo equestre che le caratterizzava. La società si era distaccata vent'anni prima dall'Accademia Nazionale di Estetica sotto le pressioni di artisti come Mary Cassatt James Wiesler Thomas Hickens e Wiesler Homer I dieci furono attivi a New York e a Boston e vennero considerati i maggiori rappresentanti dell'impressionismo americano. Essi erano dediti alla pittura in plein air come colleghi francesi ma dipingevano ciò che si poteva osservare all'interno degli spazi urbani. quindi parchi porti strade vicoli fabbriche in attività disseminati per New York Chicago e Boston. I soggetti ora più grigi e scialbi rappresentavano la nuova società che subiva il declino della natura in favore di un nuovo mondo di smog e di caos. Per vent'anni essi lavorarono e organizzarono mostre ma la loro arte sembrava guardare al passato e non riusciva a reggere il confronto con il nuovo realismo urbano e con altri movimenti più innovatori che di fatto polarizzavano l'interesse del pubblico di quel momento. La critica dell'epoca fu ingiusta con loro e non diede alcun risalto alle loro opere. Dobbiamo aspettare la critica contemporanea che oggi riconsidera tra i padri della pittura statunitense. seltene from her island where the teardrops vanished vanished where the teardrops vanished where the teardrops vanished now I teach now I teach my children each melodious measure often tears are flowing 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 from my memories tremendo in my mother told me In days long pasted Selten from her island Were the teardrops pasted Were the teardrops I need you 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 I need you